Oh guarda che sia Nicola Gianco, oggi faccio vedere un volo Qatar Airways Quando scegliete i posti sull'aereo non fidatevi troppo della mappetta che vi fanno vedere sul sito Tipo io stavolta avevo scelto un posto con nessuno dietro e guardate dove sono finito In mezzo a tutti Ci hanno dato sto sacchetto in cui ci sta una mascherina, dei guanti e un'igienizzante per mani Ora devo fare circa 6 ore di volo e mi sa che mi guardo un paio di film Iniziamo da Space Jam che da piccolo avevo visto quello con Michael Jordan Ma l'host si è apparsa all'improvviso e mi ha dato questi Sono dei mini pretzel al gusto sour cream and shave Questa è la cena e io ho scelto del noodles col pollo E penso sia l'unica compagnia aerea che non dà le posate monouso Iniziamo da questo che non so cosa sia Cos'è? Riso freddo Ora mangiamo questo Il pollo è buonissimo E per finire il dolce Benvenuti a Doha Sono qui solo per fare lo scalo che devo fare altre 6 ore di volo Ecco siamo assaliti sull'altro volo e qui da nostro sacchetto che pensavo fosse per il larghile E invece dentro ci sta uno spazzolino da denti, burro cacao, tappi per le orecchie, mascherina per gli occhi e dei calzini Facciamo un pisolino e ci vediamo dopo